Un tiro e molla che dura da anni, eppure questa volta Morgan l'ha garantito, sarà il suo ultimo anno come coach di X-Factor. Ma ne siamo veramente sicuri? Secondo quanto dichiarato dall'artista, questa volta finalmente pare proprio di sì. In un'intervista esclusiva rilasciata alle telecamere della DN Kronos, infatti il frontman dei Blue Vertigo ha dichiarato senza se e senza ma, mi auguro che riusciranno a fare a meno di me. Lo dico che quest'anno è il mio ultimo anno a X-Factor, è da anni che lo dico, che non lo voglio più fare, ma poi lo faccio. Avrò le mie ragioni e avranno loro le ragioni per essere così indispensabilmente connessi a me. Insomma, se l'affermazione sembra non lasciare adito al minimo dubbio, tra le righe però è lo stesso Morgan, a sottolineare che non è certo la prima volta che dichiara con certezza di non voler più far parte della famiglia, del talent show firmato Sky. Questa volta però è apparso un po' più sicuro degli anni precedenti. Possiamo fidarci?